Riaprono dopo la lunga pausa estiva i sette nidi comunali del capoluogo. Le strutture ospitano 405 bambini fino ai cinque anni, quasi un edificio per ogni circoscrizione, a guidarli 80 unità tra personale docente e assistente, tra cui sei nuove assunte in base alla riforma della scuola. L'assessore Arramo ha fatto visita all'asilo storico del centro, il villari recentemente ristrutturato ed in quello della Stanic, ad accogliere i piccoli la festicciola di benvenuto con maestra in maschera. Dal 28 settembre ripartirà il tempo pieno per un servizio che l'anno prossimo allargerà l'offerta ad altri due nidi in costruzione. Da settembre 2016 apriamo due nuovi nidi, uno a San Girolamo e uno a Carbonara, proprio perché in questi quartieri mancava una struttura di questo genere. Primo giorno di scuola per gli esili nido, come è andata? È andata molto bene, i nostri sette esili nido sono tutti attivi, tutti hanno avuto una pulizia interna ed esterna. Rette scolastiche aumentate quest'anno? No, abbiamo deciso di mantenerle identiche all'anno precedente, proprio perché volevamo venire incontro alle esigenze dei genitori.